Ben ritrovati i traders in questo nuovo appuntamento, io sono Damiano Zitto, price action trader indipendente, membro e collaboratore della community di Airforex, questa è Professioni Trader, la rubrica dove settimanalmente vado a raccontare il mio diario di trading su un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso sempre in Airforex. Questa settimana in questo video voglio andare a rivedere quelle che sono le mie ultime posizioni, una posizione long su euro che abbiamo già visto negli episodi scorsi e il long su sterlina, quindi sono venditore di dollaro americano con due posizioni, quindi una long su euro, una long su sterlina. Ci siamo poi lasciati nello scorso video con un long su petrolio che però per il momento ho deciso di chiudere a break even e quindi focalizzarmi in questo momento su questi mercati che mi stavano dando indicazioni molto più chiare. Quindi possiamo vedere, allora in questo momento sono sul grafico dell'euro-dollaro, ho la mia posizione aperta che è la posizione in realtà che è stata amministrativamente registrata nel mese di febbraio, quindi operazione ancora in corso, e poi abbiamo questo long sulla sterlina che ho aperto praticamente nel mese di marzo dopo questa conferma di venerdì scorso. Ma andiamo un attimo a vedere il mio diario di trading, quindi situazione che sul mese di febbraio quindi si è chiusa, o meglio si è parzialmente chiusa perché ancora ho un trade in corso dove rispetto all'investimento iniziale ho portato adesso, ho spostato lo stop a un rischio di circa 198 euro. Per quanto riguarda invece la mia posizione sul petrolio, si è chiusa praticamente con un break even, è un mercato che pagava interessi positivi, quindi ho incassato da questa posizione 3,34 euro che si aggiungono ai 2 euro e quindi un risultato operativo di 5,34 euro su questa posizione. Quindi adesso vediamo come evolve, come appunto andrà a muoversi, come si muoverà l'euro-dollaro e quindi come andrò a chiudere eventualmente poi anche a livello amministrativo questa mensilità. Per quanto riguarda il mese di marzo, quindi ho inserito un nuovo trade. Questo nuovo trade è sterlina-dollaro, quindi il trigger è un FTV, quindi la conferma di venerdì primo marzo. Ho investito i miei soliti 250 euro, però con una zona di investimento più ampia rispetto al solito. Adesso la vediamo graficamente, è zona 1,25 in questo caso perché la mattina di lunedì, mentre stavo riflettendo sul mio posizionamento, effettivamente è vero, avevo l'euro sul mese di febbraio, però è una posizione molto correlata appunto a quella in atto, quindi l'euro-dollaro e ho deciso di mettere questo stop in maniera più ampia, in modo tale mi possa permettere di fare dei ragionamenti qualora il mercato dovesse andarmi contro. Comunque vada, stiamo parlando di una posizione che ha un controvalore, sebbene il rischio sia un po' più lontano in termini grafici, comunque un controvalore di 15.000 euro circa che si va a sommare ai 23.700 dell'euro-dollaro. Questo è poi il mio riepilogo, quindi la dashboard di riepilogo del mio diario di trading effettivamente mi mostra come in questo momento ho a rischio questi 198 euro su euro e i 250 euro, almeno iniziali, sulla sterlina-dollaro. Molto bene, quindi vado sui grafici, vediamo un po' un attimo come si sta muovendo il mercato, ripartirei dall'euro-dollaro, euro-dollaro che in questo momento è a break-even, è una posizione che avevo inserito il 29 febbraio, abbiamo visto, dopo la formazione di questa pinbar. Il perché è sostanzialmente sempre dovuto a un'analisi weekly-daily, quindi un weekly, abbiamo visto che aveva creato questa falsa rottura, una pinbar su questo livello di domanda molto, molto importante, quindi quello che sono andato a fare è operare durante la formazione fondamentalmente di questa candela weekly che poi ha chiuso Inside. Si era creato comunque lo swing settimanale, il mercato è rimasto piuttosto forte, nel senso che era bullish rispetto al trend da cui stiamo venendo, aveva creato questo swing, rimane Inside, quindi rimane ancora, per quanto mi riguarda, interessante, seppur con volatilità in questo momento ridotta. Sul daily, se andiamo un po' a capire cosa sta succedendo, il mercato appunto veniva da questo movimento short molto chiaro, poi ha creato l'ultimo movimento ribassista di questo trend short con questa candela, che poi si è rivelata praticamente una trap bar, comunque una candela di fine movimento, e il mercato è iniziato a creare sostanzialmente dei gradini, dei minimi di costruzione che possiamo vedere in questo modo. Quindi il prezzo, che cosa è andato a fare? Sostanzialmente, tornando su questo livello di 1,08, eccolo qui, sull'1,08 viene a formarsi questa pin bar, che era il pin bar che per quanto mi riguarda era in quel momento la mia conferma operativa di quello che era anche il mio piano, un piano in realtà long short, ma che andava ad appoggiarsi su questo livello 1,08, livello che è sicuramente il livello importante in questo momento, un livello dove c'è stato interesse anche nel passato. Per chi segue questa rubrica, se segui questa rubrica, ti ricorderai che io avevo shortato proprio l'euro sotto questi livelli, a fine gennaio, proprio su questo trigger, poi in realtà avevo chiuso la sera sull'aumento di questa volatilità che in realtà è stata rimangiata successivamente. Però si vede, diciamo, con queste tre candele, come su questo livello ci sono stati scambi importanti, lo vediamo dall'ampiezza, dal corpo anche delle candele che si sono venute a creare. E proprio su questo livello il mercato adesso sta facendo pavimento, cioè ha fatto, si è andato a, come dire, ha fatto questo rialzo, poi è andato a appoggiarsi, adesso vediamo cosa andrà a fare. Sempre sul mio grafico possiamo vedere, ci sono al momento, insomma, per chiarezza, adesso sono andato a tracciare quelli che sono in questo momento i punti di swing importanti, e sicuramente questo è lo swing low importante. Per quanto riguarda quindi la mia posizione, io nel momento in cui dopo la giornata di giovedì c'è stato questo ribasso, il venerdì, insomma, non ho fatto niente sulla posizione, anche se sinceramente ho tentennato, perché questo ribasso che andava un po' ad annullare il mio ingresso, sia a livello di timing, ma quasi di pattern, perché la mia pin bar restava per essere annullata, diciamo che sono rimasto lì a ragionare nel momento in cui ho visto semplicemente la tenuta del livello 1.08. rispetto a questa situazione dove ho chiuso in maniera più, se vogliamo, repentina, perché ho chiuso la sera, qui c'è a favore il fatto che il mercato era molto più vicino rispetto allo swing settimanale. Lo cerco di mostrarlo un po' sul weekly. Per quanto riguarda, diciamo, il trade che avevo chiuso in maniera più repentina, 1.08, ci trovavamo in questa zona, quindi con questo settimanale, con uno swing high, in questo caso questo, quindi che risaliva al 25 dicembre. Se la mia posizione, che era short, si fosse girata in maniera contraria, qui stavamo per andare a chiudere addirittura, l'abbiamo visto nei video precedenti, un FTV Power, quindi sempre in linea con quello che era in questo momento il trend settimanale da cui stavamo provenendo. Diverso è il caso attuale. Il caso attuale è il fatto che sicuramente l'1.08 è il livello importante, ma lo swing è fondamentalmente vicino, quindi il fatto che lo swing sia vicino in quest'area di domanda e il livello comunque era un livello studiato, veniva, insomma, da uno studio di price action più approfondito, insomma, mi ha fatto almeno rimanere in posizione il giorno dopo e valutare il da farsi. Io avevo lo stop su questa zona, 1.0740, che al momento ho spostato a 1.0766 circa, quindi dai 250 sono passati ai 198-200 euro. In realtà, molto probabilmente nella giornata di oggi, domani, probabilmente andrò a ridurre ulteriormente questo stop, anche se, insomma, il mercato potrebbe ancora creare un ulteriore test di 1.08, un ulteriore falsa rottura, quindi al momento, diciamo, preferito lasciare spazio perché mi piace ragionare, non avere gli stop troppo stretti perché andrei a, come dire, a gestire molto più impulsivamente la mia posizione e non è il mio obiettivo. Quindi al momento, diciamo, questo è il mio trade, la posizione rimane piena. Per quanto riguarda il mercato, insomma, l'idea, l'idea che possa, chiaramente, facendo i suoi movimenti, facendo quello che deve fare, andare un po' adesso all'attacco di queste zone qui, qui c'è una zona sicuramente di interesse, non è una zona che in prima battuta può il prezzo, diciamo, rompere facilmente, oppure potrebbe anche farlo, però nel momento in cui si porta magari sopra 1.08, poi può continuare a creare con gli swing questo suo trend in salita. Salvo ritorni di forte forza del dollaro americano, allora, insomma, chiuderei e andrei a rivalutare i miei posizionamenti. Infatti l'altro mio posizionamento è proprio la sterlina, anche qui sterlina, che dopo, anche qui avevo fatto uno short sulla sterlina, che invece ritorna proprio sopra il livello di 1.26.30, il livello chiave del trading range, dove il prezzo è rimasto per diverso tempo, diverse settimane, adesso, insomma, si è riportato su con questa bellissima conferma, che è una FTV, strategia, insomma, strategia di Arduino Schenato, di Airforex, e che crea falsa rottura, test di 1.26, ritorna sopra il livello 1.26.30, lunedì mattina, molto presto, in realtà, dopo, già dopo la giornata di venerdì, ho inserito questo limite a 1.26.65, e, appunto, come dicevo, uno stop, in realtà, molto ampio, quindi i miei 250 euro classici di investimento li ho inseriti questa volta a 1.25. È un paracadute molto conservativo, ma che deriva dal fatto che avevo un ulteriore posizionamento. Dovesse fallire questo trigger, comunque non vorrei vedere che il mercato, poi, stia veramente sotto queste zone, che vado un po' a tracciare, quindi questa zona qui preferisco sia una zona che il mercato va a, come dire, a, comunque a tenere, anche perché questa è una zona dove io avevo fatto l'ingresso, e quindi qui è la zona dove il mercato dovesse tornare, preferisco che non torni al di sotto. Quindi il mio posizionamento al momento rimane 1.25, se il mercato fa, come dire, spinge, mostra, diciamo, la forza che è prevista dal mio progetto di trade, poi magari andrò a gestire, magari anche spostando gli stop su EUR, sulla stessa sterlina, magari gestire eventuali incrementi. Possiamo vedere che qui, effettivamente, dopo l'ingresso ieri c'è stata questa giornata bullish, una giornata di lunedì, siamo ancora sotto questo massimo che dovrebbe essere anche il massimo, esatto, settimanale del 19 febbraio. E questo, dopo questa pinbar, fondamentalmente è un pattern. Anche questo, FTW Power, quindi sicuramente tutto molto in linea con il trend di fondo, diciamo, questo trend di sterlina che ha avuto sì questa lateralità, ma che adesso, dopo aver fatto, preso liquidità su queste zone, potrebbe effettivamente creare un allungo almeno su, fino a queste zone. 1,27,80, 1,28, sono delle zone sicuramente importanti dove il prezzo è rimasto schiacciato per settimane, per mesi, dove potrebbe adesso tornare almeno e fermarsi per qualche giorno. Quindi questi sono i miei posizionamenti attuali, mentre per quanto riguarda il petrolio, che è la posizione che abbiamo visto la scorsa settimana, ho preferito chiudere. Io ero entrato su, sì, sul breakout di questa conferma, che era la conferma di questo trigger, aveva uno stop a 71, quindi qui uno stop molto ampio, e sono uscito la giornata, quindi il 29. Quando ho visto, data questo l'ho fatto durante la giornata di mercato, una chiusura che ho fatto durante la giornata di mercato, potevo, diciamo, avevo valutato l'idea di spostarmi sotto il minimo della pinbar di ieri, però il fatto che lui stava ancora inside rispetto alla giornata precedente, mi dava l'idea che poteva darmi la possibilità di un ingresso, magari, su pullback, sempre in quest'area qui, oppure attendere eventualmente, diciamo, doveva, se si avesse fatto, quello che poi in questo momento ha il prezzo al mostrato, se avesse fatto, diciamo, una spinta rialzista, quindi uno swing proprio su queste zone, quindi adesso io sarei ancora, praticamente, eccolo qui, io sarei ancora a break even, comunque con una posizione che pagava interesse positivo, quindi da qui, eventualmente, entrare nuovamente con un trade, però avevo il Forex che, insomma, mi stava piacendo di più, e quindi stava dando, diciamo, indicazioni di pre-section, secondo me migliori, e quindi ho preferito al momento spostarmi, spostarmi di là. Quindi, il petrolio che sto seguendo adesso potrebbe, potrebbe, in un giro di uno o due giorni, anche dare uno spunto, uno spunto operativo, quindi questa è, diciamo, la mia analisi, la mia decisione che ho preso su questo mercato. Piccola nota, diciamo, su, diciamo, proprio sulle mie posizioni, noto che il dollaro australiano è stato più debole, c'è stata decorrelazione nel mondo valutario, in questo momento, sicuramente il dollaro americano è stato debole, su euro e sterlina, nelle, nelle ultime giornate. Vediamo, vediamo cosa, cosa ci dice, anche il, il dollaro australiano, però sicuramente il fatto che sia stato molto debole, invece, sul, sull'oro è stato indice di, eh, come dire, di, di debolezza. Ora bisogna vedere, perché l'oro, effettivamente, ha già fatto un, un suo movimento, quindi bisogna un po', eh, capire quello che, effettivamente, il mercato ha, ha da dirci. Comunque, il dollaro americano, in generale, è forte solo su, sullo yen, ma siamo anche qui su zone ormai, di, di massimi. Quindi, eh, situazione che, per quanto riguarda il forex, mostra leggera decorrelazione, quella, diciamo, la situazione che al momento per me era più, più chiare, che effettivamente, il trade-up era proprio su, su sterlina e su euro, e quindi, rimango, rimango su, su questi due mercati, dove ho, eh, più chiarezza e focus. Io ti ricordo di lasciare adesso un mi piace al video per far, insomma, farmi capire se questo tipo di contenuto effettivamente ti è stato utile, di lasciare un commento a questo video, se non ti sei iscritto al canale, di iscriverti, attivare la campanella per ricevere, forse, eventuali notifiche dall'algoritmo di YouTube, e nel frattempo ti ringrazio, ti ringrazio per aver visto il video fino in fondo, ci vediamo la prossima settimana, ti saluto e ti auguro buon trading, alla prossima, ciao.